oddio non vedevo l'ora non vedevo l'ora di continuare bloodborne psx dobbiamo esplorare quello che ci siamo lasciati indietro perché siamo andati direttamente dal boss sì e ci siamo lasciati dietro quelle aree esplorabili prima sono assolutamente aiuto e va bene dicevo che sono veramente emozionato all'idea perché è bello è bello mi piace tantissimo qui ci eravamo andati 100% che è la casa eh sì esatto così ci colleghiamo alla prima lanterna quindi di qua sappiamo cosa c'è ci manca il buco lì e penso basta aia aiuto mettiti le fiale ok ma non è che il buco ci porta nella casa perché c'era un buco nel soffitto vero è infatti guarda qui e quindi dobbiamo andare avanti anzi anzi guardiamo di qua che sarà chiuso perché di qua in teoria si va poi da gascogne andrei di qua che avevamo visto sta porta ma via chissà cosa c'è qui ok pensavo ci fosse un caricamento basement key che abbiamo per caso no non abbiamo la basement key ok non ho ovviamente la più pallida idea ai 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 con la corsa dicevo che ovviamente non ho la più pallida idea di dove sia sarà nelle fogne magari che ci siamo passati ma proprio al volo facciamo questa strada per andare alle fogne qua abbiamo già esplorato quindi andiamo pure avanti è era di qua era di qua che non siamo andati lì c'è la porta che però serve la chiave che non abbiamo ovviamente di qua non siamo andati e qui è tutto nuovo però oddio un cane di qua dove andiamo di qua ah ho capito dove siamo siamo sotto la stanza che abbiamo raggiunto praticamente per sbaglio l'altra volta quando siamo andati dalla signora un po di insight forse sbloccava qualcosa 7 o sto dicendo una cagata saliamo di qua corvi ha un oggetto sotto o guarda la telecamera come funziona bene a per potenziare di qua torniamo dalla signora esatto più o meno siamo ancora molto lontani dalla signora ma siamo in strada diciamo aia come hai fatto è più dura del previsto ma quante botte che abbiamo preso mamma mia calmissimo stai tranquillo non ti agitare andiamo al sogno che voglio vedere se c'è effettivamente una porta che si apra con sette di insight perché io mi ricordo di sì certo ho la memoria di un mandarino però è infatti è infatti e cosa c'è di qua ok ok è solo la vasca e non ne ho sì però non ne ho 3971 e tornerò intanto vado a farvi un bel giro per trovare la strada giusta quindi ci vediamo tra un po cosa succede filmato anche in bloodborne normale succede ma non così wow guarda che bello ma che regia incredibile e infatti ci dà qualcosa ah il lancia fiamme come in bloodborne se non sbaglio ok speriamo che funzioni bene eh insomma è insomma è insomma è un po' come in bloodborne normale eh aia aiaiaiai la vedo dura è infatti ah lì sotto attenzione di qua non ci siamo stati vediamo un po' ah la lancia così dovrebbe essere praticamente come la nostra allungandola dov'è allungandola eh proviamo proviamo non è potenziata però l'arma eh quindi forse per ora ci conviene la nostra oh di qua non ci siamo andati eh no 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 qua non ci siamo andati sicuro che non ci siamo andati qui oddio da che parte un ponte un ponte levatoio e là c'è una leva quindi immagino uh velenoso lui ok ora qui sotto però ah e vabbè ora però sappiamo di non toccare quest'acqua qui oddio acqua velenosa credo se ci vado io ce l'ho qualcosa per il veleno non credo velocissimo vai ah ok antidoto è appunto ok sempre chiave delle fogne che a sto punto si troverà qui da qualche parte antidoto subito perfetto ora combattiamo il ratto va ok però qui ci si può fermare un attimo ottimo design tra l'altro qui sempre chiave delle fogne no attenzione questa si apre però aspetta ah eh beh eh beh proviamola subito mamma mia enorme ah una leva non è che qui abbiamo fatto il giro magari no dove stiamo finendo aspetta ma dove sto finendo ah e questa porta chi l'aveva vista qui secondo me è infatti ci ricolleghiamo quindi di qua in teoria è la strada da seguire ah una lanterna attenzione dove siamo qui oddio mi sono già perso immagino di dover camminare qui tutto d'unfiato di qua un passaggio mamma mia quante strade aspetta un secondo ok oh eccola qui la chiave delle fogne di qua una scala penso da buttare giù ah no è rotta è qua per terra rotta è ah giusto la devo equipaggiare vai e da qui possiamo andare no di qua dove siamo appena andati qui era dove si apriva ok proviamo ad andare di qua allora non si apre da questo lato è da qui scendiamo giù aiuto mi ha sparato al volo e andiamo ad aprire l'altra porta con la chiave delle fogne siamo a corto di chiave qui chiave e immagino che sia giusto eh madonna ah sarà qui che non si apriva dall'altro lato no si forse ok no dove sono finito sono semplicemente più giù di prima e cosa è servito scusami ah un bivio direi di andare di qua non è che qui è dove c'è è infatti dove c'è il maialone vieni vieni posso ancora fare il backstab fortissimo che fa malissimo ai 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 che dolore che dolore è andato qui dietro però si muore esattamente come in bloodborne normale e qui c'è gascogne quindi tra pochissimo c'è gascogne ah non pensavo che arrivasse via qui è esatto c'è l'ascensore che dovrebbe portarci vai no ok dovrebbe portarci alla casa ne rotolano tante e quindi bisogna un attimo vedere come fare aiuto ah vanno tipo una a destra una a sinistra proprio platform siamo molto molto vicini ah bestione tale qui ah e che si fa allora l'abbiamo 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 Grazie.